Allora faccio una premessa, a parte che ho dei denti bianchissimi, questa serie di filmati è dedicata a Emiliano Zapata e al bellissimo, magnifico anno 98 di Grazia del Pirata. Buongiorno a tutti, siamo a Rano Aracu, questa è la prima parte della tappa della Isla di Pasqua, del Tour du Monde. Questa prima parte della Isla di Pasqua è molto pericolosa perché c'è molto vento contrario e potrebbero crearsi dei ventagli di vento e si potrebbero perdere minuti e minuti e minuti e minuti, che dico ore. Questa prima parte è in discesa, il gruppo tiene che essere molto cuidado, per il resto, e bisogna rifucilarci con delle maltodestrine, questo sì. Mi salutano, hanno riconosciuto Davide Cassani, avrò la linea a te, maltodestrine, maltodestrine, maltodestrine.